Mi sta piacendo molto questa piega che stanno prendendo le donne di Revenge femminile. Una volta esisteva un filone, no, proprio di film che parlavano di vendette femminili e questa storia sembra proprio una scena tratta da uno di quei film, ma ne parliamo dopo la sigla. Mi sta riviste. Essere perfetta è una priorità fondamentale. Questa è la mia vita da narcisista. Benvenuti in Diva Podcast. Rieccoci qua perché oggi parleremo di un'altra superwoman che si è fatta notare in questi ultimi giorni per aver letteralmente asfaltato uno scippatore. Dico letteralmente asfaltato perché noi parliamo tanto di asfaltare, di asfalting. No, lei l'ha proprio asfaltato letteralmente investendolo con la macchina dopo che lui le ha scippato la borsetta. Ecco, quindi questa fantastica e mirabolante storia arriva da Viareggio e andiamo subito a leggere cosa dicono i giornali facendo anche vedere il video perché c'è il video ripreso dalle videocamere di sorveglianza. Allora, Viareggio investe uomo che l'ha rapinata. 65enne fermata per omicidio volontario. Questa è l'accusa nei confronti di una donna che avrebbe cercato un 47enne di origine algerine e lo ha ucciso, travolgendolo più volte con una Mercedes. La 65enne era stata rapinata dalla borsa, della borsa domenica sera sotto minaccia di coltello sul lungomare di Viareggio come ricostruito da fonti di polizia. Sto ridendo perché... Sapete quando mi dicono, Diva, come ti immagini tra vent'anni, trent'anni, insomma quando sarò un po' più in là con l'età? Ecco, io mi immagino come questa signora, io mi immagino come questa signora a investire gli scippatori. Ecco così, me lo immagino così. Allora, la vittima, la povera vittima, si parla di quello ucciso, non della signora. La povera vittima, in realtà tecnicamente la vittima è la signora perché la signora è stata scippata. Si chiamava Saeed Malcoun, 47 anni di origine algerine, senza fissa dimora, irregolarmente in Italia, ma dai, che è stato ucciso dalla stessa donna che poche ore prima aveva rapinato. È successo a Viareggio dove un'imprenditrice balneare di 65 anni ha cercato l'uomo e lo ha ucciso, travolgendolo più volte con la Mercedes. In base a quanto emerso, dopo la rapina, la donna ha individuato Malcoun su un marciapiede della Darsena, in via Coppino, non troppo lontano da dove era stata derubata, e dunque lo avrebbe investito di proposito. Nell'impatto, l'uomo è finito schiacciato contro la vetrina di un negozio nei pressi, e una volta a terra, la macchina della donna gli sarebbe passata più volte, almeno tre, sul corpo. Ragazzi, non so se ve l'ho detto, ma è una specie di fetish dell'investimento, cioè a me esalta tantissimo questa cosa dell'investimento. Ve lo dissi nel podcast che feci su Wade Wilson, perché una delle vittime di Wade Wilson è stata uccisa e poi investita più volte con la macchina. Vi giuro, io ho sempre avuto stacco, cioè, nel senso, come metodo di uccisione, se dovessi uccidere una persona, mi piacerebbe proprio investirla con la macchina, cioè, secondo me, boh, una cosa, cioè, nel senso, non vorrei mai investire qualcuno per sbaglio, ci mancherebbe altro, spero non mi capiti mai nella vita di investire qualcuno per sbaglio, perché, vabbè, lì ci rimarrei malissimo, però proprio se io intenzionalmente volessi uccidere qualcuno, questo è un metodo che mi piace tantissimo. Comunque, a questo, cioè, dopo che l'ha investito, attenzione, la conducente sarebbe scesa dall'auto per riprendersi la borsa, e sta scena è troppo figa, cioè, regia mandala, perché è troppo iconica sta donna, è troppo iconica, cazzo, cioè, non mi fa troppo ridere sta cosa, che scende e si riprende la borsa e se ne va, cioè, no, vi giuro, l'amo. L'uomo è deceduto in ospedale per le conseguenze dei traumi e delle emorragie riportate. La 65enne è stata rapidamente individuata per poi essere accusata di omicidio volontario negli uffici della questura, dopo essere stata assentita dagli investigatori. Ora è a disposizione dell'autorità giudiziaria con un provvedimento di fermo in attesa dell'udienza di convalida. Secondo quanto emerso, nessun paese del Maghreb avrebbe riconosciuto Melcon come proprio cittadino e i vari tentativi di espulsione attivati dall'Italia in passato avevano sempre avuto esito negativo. Adesso è stato espulso, è stato espulso proprio dal mondo, cioè proprio dalla vita terrena. Adesso è stato espulso, ok? L'uomo era stato anche accompagnato due volte presso un CPR, non so cosa sia, scusate, ma senza riscontro di un paese, né l'Algeria né altri, che ne accettasse il rimpatrio. Era tornato libero. Insomma, nessuno lo voleva, probabilmente non lo vorrà. Neanche Gesù Cristo a questo punto, chissà dove finirà la sua povera anima. Ma andiamo avanti e vediamo chi è questa super signora. Si chiama Cinzia d'Alpino, una gran bella donna, vedo dalle foto, insomma una bella donna di 65 anni, sorridente, solare e anche con la cazzimma, mi verrebbe da dire, e un'imprenditrice, un'imprenditrice. Qua dice che il 47enne, l'uomo, è stato soccorso, che era ancora vivo in arresto cardiaco, è stato rianimato, ma poi, insomma, purtroppo è deceduto. Le forze dell'ordine, questa è una cosa molto importante, le forze dell'ordine conoscono il soggetto per numerosi precedenti furti, per numerosi precedenti, per furti, scusate, soprattutto nelle auto e nei negozi, che si arrangiava come parcheggiatore abusivo e dormiva in ripari di fortuna. Ovviamente l'episodio ha scatenato reazioni emotive anche sui social, eccetera, eccetera, collegate a mesi difficili per la sicurezza sul litorale. Infatti furti, rapine, risse, aggressioni e spaccio hanno caratterizzato in molti episodi diversi l'estate, turbando la sicurezza dei residenti e dei villeggianti di località storicamente piacevoli per le vacanze, come a quanto pare, appunto, Viareggio. Allora, ovviamente, io mi sono vista, cioè mi sono usciti su TikTok un bel po' di video in merito a questa di vicenda e diciamo che ovviamente è scoppiata la polemica sul web riguardo a questo, ovvero questa donna ha ragione o torto? Cioè, ha fatto bene o ha fatto male a investire il povero scippatore? Ovviamente, ora vi dirò la mia opinione, che penso già vi immaginerete. Allora, ovviamente la donna ha sbagliato, è stato un errore per se stessa, per se stessa, perché adesso avrà purtroppo dei problemi che mi auguro siano minimi. Cioè, io mi auguro che la signora non venga incarcerata per un lungo periodo di tempo. Spero che venga... Non credo che verrà assolta, ma mi auguro fortemente che non venga chiaramente incarcerata per troppo tempo. Mi auguro che venga messa ai domiciliari. Mi auguro che la pena sia morbida, perché questa donna ha fatto quello che evidentemente in mesi e anni le autorità non hanno saputo fare, ovvero togliere di torno un criminale, un criminale che conoscevano, perché come è scritto sugli articoli, questo criminale, questo scippatore, era conosciuto, scippava nelle auto e nei negozi, era conosciuto dalle forze dell'ordine, aveva dei precedenti e nonostante ciò era a piede libero. Vi ricordate quando erano andate i naip, le scippatrici, le borseggiatrici della metro di Milano? Ecco, io in quel periodo pensavo è solo questione che arrivi quello giusto, quello giusto, che si incazza contro queste e che ne leva una di mezzo, cioè perché prima o poi succede questo, succede questo quando le autorità non intervengono, succede che le persone si fanno giustizia da sole, perché le autorità che dovrebbero essere loro a fare giustizia e a eliminare queste persone, non nel senso eliminarle fisicamente e toglierle da quel luogo, quindi o rimandarle ai loro paesi o metterle in galera, però non è possibile ovviamente mantenere a piede libero questi soggetti che scippano noi, 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 a chi non è mai capitato uno scippo è alzi la mano, perché a me è capitato più volte, ladri entrati in casa, per fortuna è capitato molto tempo fa, però mi è rimasto il trauma, macchina aperta e qualcuno ha anche scritto sui social, cioè nei commenti che ho letto, ma questa è un'imprenditrice, ha i money, ha i soldi e per una borsa ha ammazzato una persona. Allora ragazzi, io mi ricordo che tanti tanti anni fa sta cosa mi è rimasta impressa, anche se sono passati tantissimi anni, ero con il mio ex e avevano aperto la macchina e avevano preso, io avevo uno zaino dentro la macchina e in questo zaino non c'erano soldi, cose varie, perché io eravamo in una discoteca e io avevo la borsetta, ok? Quindi io avevo dietro soldi, telefono, eccetera, eccetera. In questo zainetto c'erano delle minchiate, tipo i trucchi, quelle cose lì, ma c'era anche una fotocamera. Pensate che era una, anzi, era talmente tanti millenni fa che era una fotocamera ancora a rullini, dei miei genitori a rullini. Pensate quanto tempo fa ero ragazzina che è successa questa cosa. Infatti poi dopo mi ricordo che presi la mia prima fotocamera digitale. Allora, rendiamoci conto quindi veramente quanto tempo è passato, mamma mia. E dentro quella macchina fotografica c'erano delle foto che avevo fatto a cui tenevo tantissimo. Io mi ricordo ero stata male per giorni, settimane, mesi, non per le cose che c'erano dentro lo zainetto, ma per quelle foto che avevo perso. Cioè, nelle nostre borse ci sono anche oggetti verso i quali abbiamo un legame affettivo. Cioè, un legame affettivo nel senso che ci sono cose a cui teniamo. Il telefono, all'interno del telefono, ci sono quando rubano i telefoni, vabbè, adesso, ok, ci sono i backup e tutto questo. Sempre attentissima prima di andare da qualche parte, se devo andare a Milano, se devo andare al mare, a fare sempre il backup la notte prima perché se salti un backup poi ovviamente le cose le perdi. E sempre stare attenta a fare questo. Però magari tante persone non hanno magari, non so, il cloud aggiornato che è e rischiano di perdere del materiale che è perso per sempre o se rubano un computer o se rubano degli hard disk e sono cose che vi ammazzano psicologicamente. Non è per i soldi, per il port... Chi se ne frega delle 200 euro che ho nel portafogli, le carte di credito, le blocco... Chi cazzo se ne frega? Non è quello ma il resto che c'è all'interno di quel telefono e magari all'interno di quella borsa. E poi a prescindere rubare è qualcosa di veramente schifoso. È veramente un'azione schifosa. Io se fossi al governo ai ladri darei delle pene esemplari. Delle pene esemplari. Cioè non li farei uscire di prigione ma io darei l'ergastolo darei l'ergastolo a questi schifosi perché quando ti rubano qualcosa di tuo o quando entrano nella tua casa è come è come un è come uno stupro. Cioè io che l'ho vissuto vi dico che è proprio come essere violati. È come essere violati nella propria intimità. È una cosa terribile e chiunque adesso magari chi non l'ha mai vissuto dice no ma cosa dici non è una violenza fisica ma è una violenza psicologica devastante. Chiunque chiunque abbia mai subito uno scippo un borseggiamento ha avuto ha avuto i ladri in casa può dire nei commenti può confermare che è una violenza psicologica devastante devastante perché ti rubano qualcosa di tuo e quello che è tuo non te lo deve prendere nessuno cioè rubare una cosa vergognosa è una cosa vergognosa è una delle cose più brutte che si possa fare a qualcun altro rubare qualcosa che è di proprietà di qualcun altro è come togliergli un pezzo di sé cioè a livello simbolico è una cosa bruttissima e chi l'ha vissuto lo sa e quindi queste persone non vanno lasciate libere perché creano dei disagi creano dei traumi creano delle situazioni terribili a noi a noi cittadini e non viene fatto nulla vengono lasciati irregolari in Italia poi per me possono essere regolari irregolari non me ne frega niente perché non non rubino cioè perché non facciano del male al prossimo altrimenti via fuori dei coglioni oppure dentro in galera e invece no e quindi onore a questa donna onore a questa donna che si chiama non mi ricordo più come si chiama questa fantastica donna Cinzia D'Alpino onore 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 a Cinzia D'Alpino che ne ha tolto uno dai maroni cioè supereroina grande donna grande donna che ne ha tolto uno dai maroni e in più uno che era conosciuto era conosciuto e continuava a creare danno alla città al litorale e alle persone ai negozianti e agli automobilisti quindi onore onore a Cinzia D'Alpino certo non è mai bello uccidere qualcuno ma che cosa bisogna fare quando fuori è il far west quando fuori al far west e le autorità non fanno nulla allora tu vivi come nel far west poi purtroppo la storia si ripete ovvero il fatto che si finisca in carcere si finisca condannati anche se uccidi un ladro che ti entra in casa e infatti tanti tante vittime di questi soggetti hanno avuto delle pene perché hanno ucciso i ladri che sono entrati in casa propria quando per me invece dovrebbe essere libero cioè l'uccisione libera cioè se un ladro ti entra in casa nel momento che è nella tua proprietà tu ci fai quello che vuoi cioè nel momento che è nella tua proprietà o che prende qualcosa di tuo tu ci fai quello che vuoi quella persona ti dà il diritto di fare della sua vita quello che tu vuoi perché è nella tua proprietà perché ha rubato la tua borsa e allora tu fai quello che devi fare e la signora è stata spietata e però che doveva fare che doveva fare certo magari sarebbe stato meglio magari investirlo una volta sola riprendersi la borsa e andarsene così quello magari sopravviveva quello vabbè e adesso lei avrebbe avuto molti meno problemi però l'ha eliminato raga l'ha eliminato e quindi è proprio il caso di dire uno in meno è proprio il caso di dire uno in meno quindi facciamo meno i moralisti del tipo eh ma una vita umana vale di più di una borsetta evitiamo di fare i moralisti perché quando comunque io lo dico questo è un esempio che faccio sempre e farò sempre quando si fa del male alle persone di solito chi fa del male alle persone tipo chi ruba chi stupra chi banalmente fa azioni anche meno gravi come chi manipola chi sfrutta eccetera eccetera ha una possibilità su cento di incontrare uno psicopatico peggio di lui perché la psicopatia è l'1% della popolazione no? quindi uno psicopatico cioè una persona su cento è potenzialmente è psicopatica se tu derubi 99 persone la centesima probabilmente è una psicopatica e in questo caso al poveri al pover al povero algerino è andata proprio così ha beccato la psicopatica poi adesso io dico psicopatica senza sapere ovviamente la diagnosi della signora a caso mai ce ne fosse una magari non sto dando una diagnosi sto parlando così per farvi capire insomma la statistica poi la signora magari ha altre problematiche di gestione della rabbia che non c'entrano con questo però insomma prima o poi ti capita il pazzo lo stronzo lo psicopatico quello che insomma te la mette nel culo è proprio statistico se tu non fai del male a nessuno anche se incontri nella tua strada incontri lo psicopatico non è detto che lo psicopatico ti creerà dei problemi perché se tu non gli fai del male quello non è che ti deve creare cioè può anche essere che lo faccia può anche essere che lo faccia perché è sempre è psicopatico ma se non gliene dai motivo hai molte meno probabilità che quello uno psicopatico su cento che incontri ti creerà dei problemi ma se tu crei dei problemi al prossimo e a tutte le cento persone crei dei cazzo di problemi quando becchi lo psicopatico i problemi te li becchi tu quindi è proprio statistico io faccio sempre ripeto fino alla nausea questa cosa perché le persone devono abituarsi all'idea che se sono delle merde riceveranno la merda cioè qualcuno dice che è il karma non è proprio solo il karma è proprio anche statistica più che karma perché più tu fai schifo e più prima o poi becchi chi fa più schifo di te cioè tu scippi e prima o poi becchi quella che ti ammazza è ovvio che sia così quindi ogni persona che si mette nelle condizioni di fare del male agli altri si mette nelle condizioni di poter ricevere molto più male nel momento in cui becca la persona peggiore di lui è statistica è così funziona così sia per le banalità che per le cose più gravi è così che funziona mentre se tutti si comportano bene ci sono molto meno possibilità di ricevere male perché il male attira male la cattiveria attira cattiveria e quindi dovrebbero vivere tutti un po' più sereni ed evitare chiaramente di nuocere al prossimo detto questo a me di questa vicenda ciò che mi entusiasma di più è che si tratta di una donna un'eroina una donna con due coglioni enormi che sui suoi bei tacchi a spillo ha fatto giustizia quindi non posso che essere insomma fiera da donna insomma di questa cosa e auguro insomma tutto il bene alla signora e vedremo quello che succederà nei prossimi giorni per questa puntata di diva podcast è tutto fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti e noi ci vediamo alla prossima puntata la prossima puntata